Subiscono un tentativo di rapina in tangenziale e chiamano i carabinieri, protagonisti tre ragazzi, un marocchino di 18 anni, un macedone di 20 e una ragazza di 19 anni che nella notte tra sabato e domenica si erano fermati in un'area di sosta per un guasto al paraurti dell'auto su cui viaggiavano. I ragazzi hanno raccontato di essere stati avvicinati da due uomini che volevano rubare la loro vettura e la borsetta della ragazza che era con loro. Uno dei due avrebbe anche dato una violenta testata al 18enne marocchino che era alla guida procurandogli una profonda ferita al sopracciglio. L'altro invece ha inseguito il 20enne macedone con un teaser senza riuscire però a colpirlo. Le tre vittime hanno chiamato i carabinieri fornendo una descrizione dettagliata della vettura dei banditi. I militari hanno rintracciato l'auto ferma davanti a un locale a cadeo, sono entrati nella discoteca e hanno arrestato i due malviventi. Si tratta di due albanesi di 25 e 33 anni residenti a Piacenza che sono finiti in manette con l'accusa di tentata rapina in concorso e porto di oggetti atti all'offesa. Con loro c'era anche una ragazza romena di 28 anni che è stata denunciata per favoreggiamento personale e porto abusivo di oggetti da offesa. Il pronto intervento delle battuglie presenti sul territorio e l'attivazione del piano antirapina ha consentito di rintracciarli dopo breve tempo e di trarli in arresto. Sono state impiegate quattro battuglie della compagnia di Fiorenzola che in quel momento erano sul territorio. Questo per dire che vi è la presenza di battuglie sul territorio, c'è la massima attenzione per contrastare i fenomeni e i reati sia contro la persona che contro il patrimonio e l'impegno di noi carabinieri è sempre massimo.